La malattia di Andrè La casa del notaio aveva la facciata sulla piazza. Nel retro, un bel giardino folto di alberi arrivava sino al passaggio delle piche, sempre deserto, dal quale lo separava un muro. In fondo a questo giardino, la moglie del notaio Moro aveva dato appuntamento per la prima volta al capitano Sombril, che le faceva la corte da molto tempo. Suo marito era andato a Parigi per otto giorni. Lei dunque era libera per tutta la settimana. Il capitano l'aveva tanto pregata, tanto implorata, con parole dolcissime. Lei sarà convinta ad essere amata appassionatamente. Si sentiva così sola, così trascurata a causa degli atti legali che costituivano l'unica occupazione del notaio, che aveva permesso che il capitano si prendesse il suo cuore, senza neanche domandarsi se un giorno gli avrebbe concesso qualcosa di più. Poi, dopo mesi di amore platonico, distrette di mano, di baci furtivi carpiti dietro una porta, il capitano aveva dichiarato che avrebbe lasciato immediatamente la città, chiedendo un trasferimento, se non avesse ottenuto un appuntamento, un vero appuntamento, all'ombra degli alberi durante l'assenza del marito. Lei aveva ceduto, aveva promesso l'appuntamento. Ora, addossata al muro, lo stava aspettando col cuore che palpitava e trassalendo ad ogni minimo rumore. Sentito un tratto che qualcuno stava scalando il muro e fu sul punto di fuggir via. E se non fosse lui? Se fosse un ladro? Ma no, una voce lo stava chiamando con dolcezza. «Matilde!» Lei rispose «Etienne!» E un uomo piombò sul sentiero con un rumore di ferraglia. Era lui. Che bacio! Rimasero a lungo in piedi, a venti, le labbra unite. Ma a un tratto cominciò a cadere una pioggarella fine fine, e le gocce, scivolando di foglia in foglia, producevano nell'ombra come un fremito d'acque correnti. E la trassalì quando la prima goccia le cadde sul collo. Il capitano le diceva «Matilde, cara, adorata, angelo mio, entriamo in casa. È mezzanotte. Non devi temere nulla. Andiamo dentro. Ti supplico». Lei rispondeva «No, caro, ho paura. Chissà che ci può capitare». Ma lui la stringeva tra le braccia, e le sussurrava all'orecchio. «I domestici sono al terzo piano, dalla parte della piazza. La vostra camera è al primo, dalla parte del giardino. Non ci sentirà nessuno. Io vi amo. Io voglio amarti liberamente, tutta quanta, dalla testa ai piedi». E la stringeva con forza, stordendola di baci. Lei, intimorita e piena di pudore, opponeva ancora una debole resistenza. Ma il capitano la prese alla vita, la sollevò e la portò verso la casa, sotto la pioggia battente. Il portone era rimasto aperto. Salirono le scale a tastoni. Appena in camera, lei mise il paletto, mentre Etienne accendeva un fiammifero. Esanime. Matilde cadde in poltrona. Lui si incinocchiò ai suoi piedi e cominciò a spogliarla lentamente, levando le scarpe e calze, per poterle baciare i piedi. Anzimando, lei diceva «No, Etienne, vi supplico, fatemi rimanere una donna onesta. Non vi potrei perdonare dopo. È così brutto, così volgare. Non potremmo amarci solamente con il cuore. Oh, Etienne!» Con la bravura di una cameriera e la rapidità di un amante impaziente, lui sbottonava, sganciava, slacciava, senza fermarsi. E quando lei tentò di fuggire per evitare l'audacia del capitano, d'un tratto, dai vestiti, dai sottoabiti, dalla biancheria intima, uscì ignuda, come una mano sfilata dal manicotto. Spaventata corse verso il letto per nascondervi si tra le cortina. Era un rifugio pericoloso. Il capitano la seguì, ma nella fretta di raggiungerla, gli calde sul pavimento la sciabola, sfilata in fretta. Fece un gran fracasso. Subito un grido, acuto, poi un pianto lamentoso e continuo, il pianto d'un bambino, arrivò dalla camera contigua, la cui porta era rimasta socchiusa. Lei mormorò. Avete svegliato Andrè? Adesso non si riaddormenterà più. Il figlio aveva quindici mesi e dormiva vicino a lei, in modo che potesse vigilarlo in continuazione. Il capitano, infoiato, non la stava a sentire. Che importa? Che importanza ha? Adesso sei mia, Matilde! Invece lei si dibatteva, disperata e impaurita. No, no, senti come piange, svegliere la balia e se quella viene qui, noi che facciamo? Siamo perduti. Dammi a sentire, Etienne. Quando fa così le altre notti, suo padre, per farlo tacere, lo prende nel nostro letto. E lui sta zitto subito, proprio subito. Non c'è altro mezzo. Lascia che lo vada a prendere, Etienne. Il piccolo urlava e metteva quegli strilli acutissimi che passano i muri più spessi e si sentono perfino dalla strada quando passiamo vicino alle case. Il capitano, deluso, si alzò. Matilde corse a prendere il piccino e lo portò nel letto. Tacque immediatamente. Etienne si mise a cavalcioni d'una seggiola e si arrotolò una sigaretta. Dopo soli cinque minuti, André si era addormentato. La madre sussurrò Adesso lo riporto via. E andò a rimettere il figlio nella culla con infinite precauzioni. Quando tornò, il capitano la stava aspettando a brazza aperte. L'abbracciò, folle d'amore, e lei finalmente conquistata lo strinse sussurrando Etienne, Etienne, amore mio, oh, se sapessi quanto, quanto io. André ricominciò a piangere. Fuori di sé il capitano bestemmiò. Per tutti i diavoli, ma non sta mai zitto quell'impiastro! L'impiastro non stava zitto, anzi, muggiva. A Matilde parve che qualcuno si stesse muovendo al piano superiore. Senza dubbio era la balia, si scendeva. Si slanciò, prese il figlio e lo riportò nel letto. Si calmò subito. Per tre volte lo riportò nella culla, per tre volte fu costretta a riprenderlo. Il capitano Sombril andò via prima che albeggiasse, bestemmiando a più non posso. Per calmare tanta furia, Matilde consentì a farlo tornare quella sera stessa. E tornò, come il giorno prima, ma ancor più impaziente, più infuocato e furibondo per l'attesa. Fece attenzione a posar di traverso la sciabola sui braccioli d'una poltrona. Si levò gli stivali con la delicatezza ad un ladro e parlò con una voce talmente bassa che Matilde non l'udiva nemmeno. Insomma, stava lì lì per essere felice, completamente felice, quando il pavimento o un mobile, magari lo stesso letto, scricchiolò, un rumore secco, come d'un sostegno spezzato. Subito lo seguì un grido, da prima debole, poi acutissimo. Andrè si era svegliato. Guaiva come una volpe e se avesse continuato in quel modo avrebbe svegliato di certo tutta la casa. La madre, sgomenta, corse a prenderlo. Il capitano non si mosse, schiomava di rabbia. Stesse la mano lentamente, prese tra due dita un pochino della carne del marmocchio dove gli capitò coscia o culetto e diede un bel pizzicotto. Il bambino si dibatté urlando come un ossesso. Allora, fuori di sé, il capitano lo pizzicò con più forza dappertutto con furore. Acchiappava un cuscinetto di ciccia e lo torceva stringendo violentemente. Lasciava la presa per pizzicarlo ancora, poi più lontano e ancora. Il piccolo strillava come un pollastro sgozzato o come un cane frustato. La madre lo baciava, lo carezzava piangendo, cercava di calmarlo, di soffocare le grida coi baci. Ma André Paonazzo come se avesse le convulsioni batteva piedini e manina in maniera straziante. Il capitano insinuò dolcemente. prova a rimetterlo nella culla forse si calmerà. Matilde tornò nell'altra stanza col piccolo in braccio. Appena lontano dal letto materno strillò meno forte e appena nella culla assichetò pur con qualche singhiozzetto intermittente. Il resto della notte trascorse tranquilla e il capitano fu soddisfatto. Tornò nella notte successiva. Parlava a voce leggermente alta ed André si svegliò e cominciò a strillare. Subito la madre andò a prenderselo ma il capitano pizzicò così bene così forte e così a lungo che il piccino boccheggiava con gli occhi stravolti e lavava la bocca. Fu rimesso in culla e si calmò subito. Dopo quattro giorni non piangeva più per andare nel letto della madre. Il sabato sera fece ritorno al notaio riprese il suo posto in famiglia e nel letto coniugale. Stanco del viaggio andò a letto presto. Aveva ripreso le sue abitudini e adempiuto scrupolosamente a tutti i doveri di uomo onesto e metodico. Si stupì. Come mai questa notte André non piange? Vallo a prendere Matilde. Mi fa piacere sentirlo tra noi due. La moglie si alzò e andò a prendere il piccolo ma questi appena si sentì nel letto in cui pochi giorni prima gli piaceva tanto addormentarsi si contorse impaurito e urlò così forte che dovette essere riportato nella culla. Il notaio non riusciva a capirne il motivo. Ma che cosa strana? Che cosa avrà questa notte? Forse sonno? La moglie rispose. Ha fatto sempre così da quando tu sei stato fuori. Non mi è riuscito di tenerlo qui neanche una volta. La mattina seguente il piccolo appena sveglio cominciò a giocare e a ridere agitando le manine. Il notaio commosso l'andò a baciare e lo sollevò per portarlo nel letto matrimoniale. André sorrideva con quel riso lieve degli esseri che non hanno se non vaghi pensieri. Appena vide il letto con la madre dentro il suo vicino felice si contrasse si contorse grida strazianti gli uscirono dalla gola e intanto si dibatteva come se l'avessero torturato. meravigliato il padre mormorò questo piccino è ammalato con un gesto del tutto naturale gli sollevò la camiciola. Mandò un grido di stupore cosce polpacci fianchi e tutto il culetto del piccino erano puntezzati da macchie turchine grosse come monete. Il notaio gridò guarda Matilde è una cosa spaventosa. La madre accorse smarrita. Ogni macchiolina pareva attraversata da una riga violetta dove si era rappreso il sangue. Doveva trattarsi certamente di qualche morbo terribile il principio di una sorta di lebra una di quelle strane malattie che riempiono la pelle di pustole come la schiena dei rospi o di scaglie come quello dei coccodrilli i genitori si guardavano atterriti il notaio esclamò bisogna chiamare subito il medico Matilde contemplava il figlio bianca come una morta era maculato come un leopardo all'improvviso lanciando un grido violento involontario come se avesse veduto una persona che le faceva orrore esclamò ah miserabile di che stai parlando chi è miserabile lei divenne rossa come un papavere balbettò niente niente ma credo non occorre chiamare il medico è stata sicuramente quella mascalzona della baglia che gli dà i pizzicotti per farlo tacere quando piange fuori di sé il notaio si precipitò dalla baglia e per poco non la picchiò la baglia negò con decisione ma venne scacciata il suo comportamento fu segnalato al municipio cosicché non le fu più possibile di trovare un altro posto di Grazie a tutti